Si chiama Maria Pia Sabelli ed è di Campobasso il nuovo capo di gabinetto della questura del capoluogo. La presentazione in mattinata nel corso della conferenza stampa del questore. Oggi è la presentazione del mio capo di gabinetto che è nuova assegnazione e il ringraziamento del capo di gabinetto che ha tenuto per otto mesi la reggenza dell'ufficio. Posso dire che abbiamo lavorato moltissimo sulla prevenzione nel 2018 come gli altri anni perché quello che riteniamo a livello di pubblica sicurezza in qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza è che se lavoriamo bene con le altre forze dell'ordine che colgo l'occasione per ringraziare i carabinieri, i guardie di finanza, la polizia locale, tutti quelli che entrano in gioco nella prevenzione è inutile che li nomino a tutte le altre forze dell'ordine, noi superiamo la metà dell'opera perché la repressione è poi la parte finale che ci vuole, la facciamo, la magistratura è impegnatissima e ringrazio anche la magistratura che ci segue sempre con tanta professionalità e tanta dedizione. Io sono di Campobasso, ci tengo a precisarlo, a sottolinearlo perché è un motivo di orgoglio per me poter lavorare ogni giorno per questa città e per questa provincia e con tanti che vanno via poter tornare a casa e lavorare per la propria realtà è sicuramente un motivo per cui essere orgogliosi e poter dare il massimo nel proprio lavoro di ogni giorno. Ecco, lei è stata in passato ovviamente fuori regione? Sì, la mia ultima sede di servizio è la direzione centrale delle specialità, in particolare il servizio polizia ferroviare. Com'è cambiata Campobasso rispetto a quando la lasciate? Se è cambiata? Beh, in fondo sono via da pochi anni, quindi essendo la realtà in cui sono nata e cresciuta ho potuto assistere a dei cambiamenti ma fisiologici. Posso dire che tanti della mia generazione purtroppo non sono rimasti qui nella nostra terra molisana e magari può essere uno spunto di riflessione anche per il futuro perché in fondo, come è capitato a me in questo frangente, è sicuramente bello poter fare qualcosa per il luogo in cui si è nati, quindi l'augurio magari è che tanti giovani possano avere se è una loro scelta, magari la possibilità di tornare o di restare dove sono nati e dove hanno i propri affetti. Grazie. Grazie.